Riserva del Borsacchio, raccontiamo davvero che cosa è accaduto e che cosa può accadere nel prossimo futuro e qual è la nostra posizione. Domani il Consiglio Comunale di Roseto è stato convocato per discutere di questo, ha invitato parlamentari, Presidente del Consiglio, Presidente della Regione, Assessori. Quindi intanto mettiamo le cose a posto, insomma ognuno il suo mestiere, io convoco e riunisco la Giunta regionale, partecipo alle sedute del Consiglio regionale, il Sindaco e il Consiglio Comunale si riuniscano nella loro autonomia e prendano le loro decisioni in serenità senza trasformare il Consiglio in un processo né in una passerella dove parlamentari o aspiranti tali vadano a fare propaganda perché l'argomento è molto serio. Intanto c'è bisogno di ricordare di preciso qual è stata la dinamica d'aula perché è stato raccontato che qualcuno di notte fa un blitz, mette in votazione un testo che nessuno conosce o ha potuto leggere, nemmeno subemendare. Uno con una particolare faccia tosta ha raccontato che non era in aula e che era andato a prendere il testo e che non lo ha potuto vedere e quindi questi cattivoni che gli hanno fatto piovere improvvisamente l'emendamento hanno fatto un qualche cosa di assolutamente scorretto. Questo è falso. Per fortuna oggi le sedute dei consigli regionali vengono riprese, riprese tutte integralmente, registrate e sono scaricabili su internet. Andate a vedere troverete che alle 22.30 del 28 dicembre il Presidente Sospiri riapre la seduta, annuncia la presentazione degli emendamenti che verranno messi al voto. Li comunica attraverso mail a tutti i consiglieri regionali e solo a mezzanotte e 10 ne inizia l'esame. Vuol dire che per un'ora e mezza i consiglieri regionali hanno avuto tutto il tempo di leggere gli emendamenti, capire se il testo era quello conosciuto, condiviso o approvabile. Hanno avuto il tempo eventualmente di presentare i subemendamenti, di fare tutto quello che è nella loro facoltà. Non lo hanno fatto. A mezzanotte e 10 iniziano le votazioni sugli emendamenti, si arriva all'emendamento 4 che è quello sui contributi per gli agricoltori colpiti dalla peronospora. Le immagini si aprono a tutto campo perché interviene un consigliere di maggioranza a illustrare questo emendamento e si vede chiaramente che sui banchi delle opposizioni sono tutti presenti, praticamente tutti presenti, almeno 10 consiglieri di opposizione. Sospiri chiama a mezzanotte e mezza, quindi due ore dopo aver ridepositati, l'emendamento numero 5, quello famigerato che riduce i confini della riserva del Borsacchio. Chiama l'emendamento, chiede di metterlo in votazione, qualcuno dei banchi della minoranza chiede di che cosa parlasse l'emendamento e lui esplicitamente legge con chiarezza che l'emendamento riguarda la riserva del Borsacchio. Aspetta almeno 10 secondi in silenzio, non c'è nessuno che alza un dito, nessuno che ha una minima reazione, allora o questa opposizione dorme e non è capace di fare l'opposizione, quindi non può nemmeno governare, o era complice. Si capisce anche il sospetto della complicità che io nutro ancora, quando dopo aver fatto la votazione e proclamato i voti contrari di tutte le opposizioni, qualcuno, prima che Sospiri presentasse e mettesse in votazione l'emendamento successivo che riguardava le proroghe, chiede di nuovo di intervenire e cambia il proprio voto da contrario ad astenzione. Sono gli stessi che il giorno dopo hanno cominciato a stracciarsi le vesti, questi stracciatori di vesti sono quelli che sono stati un'ora e mezza con quell'emendamento depositato e hanno fatto finta di non leggerlo o di non capirlo e se non lo hanno capito, ripeto, è un problema loro. Poi in aula, dopo averlo ascoltato e votato, si sono anche premurati una parte delle opposizioni, quella di centrosinistra, quella legata al Partito Democratico, di dire che non erano nemmeno contrari ma che si astenevano. Certo poi il giorno dopo trovarli tutti sulla spiaggia che per inciso il luogo dove facevano le manifestazioni è esattamente il luogo che viene conservato nella riserva perché la riserva oggi, nel perimetro minimo che ne è fuoriuscito dalla votazione del Consiglio regionale, è proprio sulla spiaggia, la parte costiera, che viene assolutamente preservata. Resta il fatto che questi soggetti che il giorno dopo sono andati a stracciarsi le vesti e a rifarsi una verginità di fronte agli ambientalisti, al Comune di Roseto, ai cittadini, a tutti quelli che amano l'ambiente, si sono astenuti, non hanno proferito una parola contro, non hanno alzato un dito e posso dire, conoscendo un po' le tattiche parlamentarie e le dinamiche dei consigli regionali, che se avessimo avuto dieci consiglieri di opposizione che alla mezzanotte e mezza, all'una di notte tra il 28 e il 29 dicembre sulla legge di bilancio avessero cominciato ad alzare la voce tutti e dieci, a chiedere interventi ripetuti, a presentare una montagna di subemendamenti, a bloccare l'approvazione del bilancio, io per primo avrei detto del Borsacchio se ne parla un'altra volta, oggi si approva il bilancio. Se vedo che la maggioranza chiede di approvare questo emendamento e l'opposizione non fiata e anzi mezza opposizione addirittura si astiene, ritenendolo quindi non un emendamento così dannoso, il Presidente non può che pensare che magari quel provvedimento è un provvedimento che tutto sommato per il territorio può anche andare bene. Scopro il giorno dopo che invece è arrivato Attila che sta spargendo sale sulle colline terramane, che sta distruggendo l'ambiente, la preziosità della fauna, della flora, che arrivano i cementificatori e così via e anche qui voglio chiarire come stanno le cose. Se si è arrivati a questa soluzione c'era un'esasperazione sul territorio che ha prodotto in parte almeno dei rappresentanti di quel territorio in Consiglio regionale una reazione forse esagerata, forse eccessiva, ma comprensibile. 18 anni, dal 2005, questa riserva non ha mai fatto alcuna attività ufficiale, è stata affidata di fatto soltanto ai volontari, lodevole l'attività delle guide del Borsacchio e di altre associazioni che fanno volontariato, ma quella non è una riserva e quelle attività si possono fare con o senza riserva perché portare le persone a passeggio per le colline e fargli vedere gli alberi, le colline, i paesaggi, le specie tipiche e così via, è una cosa per cui non è necessario fare una legge, basta fare appunto volontariato. La riserva è un'altra cosa, nei 18 anni in cui la riserva è stata istituita, questo ha significato far scattare claustro di salvaguardia, si chiamano così tecnicamente, che impediscono qualunque tipo di attività ordinaria, abbiamo assistito in questi anni la popolazione residente e gli agricoltori del luogo si sono lamentati di aver ricevuto diniechi, multe, mancate autorizzazioni, patrimonio edilizio, stalle, case, fattorie che vanno in degrado, attività agricole che fanno fatica a svilupparsi, persone denunciate o multate pesantemente per aver potato i propri alberi senza il permesso di chissà chi, questo ha generato un conflitto e la riserva invece di essere un'opportunità di crescita per tutta la comunità è diventata agli occhi di quelli che ci vivono in particolare un problema, se non addirittura un flagello. È un errore a cui bisognava porre riparo e oltretutto io rivendico il fatto che questa riserva non è frutto di una lotta della sinistra contro la destra, questa riserva viene istituita con il governo regionale di centrodestra in una legge finanziaria votata dalla maggioranza che allora esprimeva il presidente Giovanni Pace, la riserva nei confini attuali è stata modificata nel 2012, sette anni dopo, con il presidente Giovanni Chiodi con un emendamento firmato da Rabuffo e Venturoni, consiglieri dell'epoca del Popolo delle Libertà, uno dei quali è ancora tuttora in attività a Teramo, quindi non ci facciamo dare lezioni su come si difende l'ambiente. Il problema è che il comune di Roseto non ha mai fatto quello che doveva fare perché la riserva viene poi affidata alla gestione del comune, non è stato mai approvato un piano di assetto né il piano pluriennale di attuazione. Perché non basta approvare adesso il piano di assetto. Intanto voglio smentire che adesso senza la riserva arriva la cementificazione e i valori ambientali sono in pericolo. C'è un piano paesistico regionale, una nuova legge urbanistica regionale approvata dopo 40 anni che fa del zero consumo del suolo e della sostenibilità, la strada maestra con la quale bisognerà confrontarsi, c'è il piano regolatore del comune di Roseto. Si può cementificare quella riserva solo se al comune di Roseto decidessero di farci sopra i palazzi, ma questo confliggerebbe con le normative provinciali e regionali che lo impedirebbero. Ma per paradosso solo se ci fosse questa volontà e non mi pare che al comune di Roseto la pensino esattamente così. Quindi non ci sono lottizzazioni all'orizzonte, non c'è bisogno di ipotizzare poteri forti o interessi economici che non siano quelli di tutelare il diritto di proprietà e il diritto di chi vive dentro i confini della riserva a poter svolgere le proprie attività, non impoverirsi a causa della riserva. Se la riserva porta valore ha un senso, se la riserva impoverisce ne acquista un altro e molto negativo. Va quindi conciliato l'ambiente con l'agricoltura, con le attività economiche o con i diritti di chi vive in quel luogo che devono essere i primi e di essere rispettati in osseguio al principio di sviluppo sostenibile che guida anche tutta la normativa nazionale e comunitaria. Il comune di Roseto venerdì ha messo all'ordine del giorno l'approvazione del piano di assetto. Lo può fare perché la regione Abruzzo, la giunta regionale con il suo assessore all'agricoltura ha collaborato e con i propri uffici ha collaborato smazzando in due anni centinaia di osservazioni, sono formalmente 77 ma molte di queste contengono decine di richieste diverse. Non era obbligatorio per la regione farlo, lo abbiamo fatto per spirito di collaborazione perché lo strumento urbanistico e del comune avrebbe dovuto il comune, l'ufficio del comune fare tutto questo lavoro. Noi abbiamo collaborato, ci sono state tante tante riunioni tra il comune di Roseto e la giunta regionale, è stata un'attività senz'altro costruttiva e utile. Ora non vorrei che però il comune di Roseto all'ultimo miglio perdesse di vista il punto, non si approva un piano di assetto, le controdeduzioni a quelle osservazioni senza che il consiglio comunale, le commissioni competenti ascoltino i proprietari, le associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste per capire se le risposte che gli uffici hanno predisposto sono risposte politicamente condivisibili da chi rappresenta e all'onere di rappresentare la comunità. Quindi spero che il consiglio di domani non si concluda con documenti propagandistici ma entri nel merito, permetta la partecipazione e la condivisione, permetta di adottare un piano ma il comune di Roseto deve andare avanti poi, deve fare anche il PPA, il piano pluriennale di attuazione che dal 2016 è rimasto fermo dentro al cassetto e invece bisognava approvarlo insieme perché approvare un piano di assetto senza stabilire con il piano di attuazione quali sono le attività che si fanno, come si nomina e chi compone il comitato di gestione, chi gestisce quindi la riserva, chi la valorizza, chi mette in piedi attività che producono reddito, che producono valorizzazione, che producono crescita. Per il territorio la riserva rimane zoppa, rimane zoppa e non può andare avanti e in più Roseto deve anche investire perché i comuni che hanno delle riserve nel proprio territorio sono comuni normalmente che mettono a disposizione immobili per le sedi, per musealizzare quello che vi è di importante da mostrare ed esporre, che mettono anche un po' di soldi per sviluppare le attività, questo il comune di Roseto non lo ha mai fatto, io spero che la nuova amministrazione dell'attuale sindaco voglia anche porre rimedio a questo vulnus che ha pregiudicato il rapporto tra la riserva del Borsacchio e i propri cittadini. Per questo io chiedo e mi aspetto che il comune di Roseto adotti il piano di assetto naturalistico, il PPA che metta in condizione quindi anche di nominare il comitato di gestione, che lo faccia garantendo un'ampia condivisione e partecipazione dei cittadini, di tutti i portatori di interesse che devono essere coinvolti perché un parco fatto, un parco, una riserva, un'area protetta fatta a danno di chi ci vive ha poco futuro davanti a sé, bisogna invece costruire insieme ai cittadini, ai residenti, agli operatori che vivono e che vi lavorano il futuro di questi territori, che dimostri anche l'impegno concreto stanziando le risorse per poterla far funzionare. Una riserva è perché non sia soltanto una cartolina da mostrare, un sito internet o un luogo in mano soltanto alla lodevole attività dei volontari e a quel punto la Regione sarà pronta a sedersi al tavolo, a recepire questo strumento, a portarlo all'esame della propria commissione consigliare dove il Presidente, il Vicepresidente con delega all'agricoltura, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Commissione, tutti i gruppi consigliari della Regione di maggioranza e di opposizione saranno pronti a discutere nel merito di questo e a verificare se questo piano di assetto e questo piano polorennale risolve le criticità che hanno portato all'esasperazione che ha prodotto. Un risultato che non piace a nessuno perché a nessuno piace diminuire le riserve, tutti amiamo l'ambiente, tutti vogliamo proteggere gli animali, la fauna, la flora, ma bisogna essere serio e farlo in maniera realistica, concreta e non soltanto per sciacquarsi la bocca e fare propaganda. Ripeto in conclusione che non accetto le lezioni da chi ha dimostrato di non saper fare il proprio mestiere all'opposizione e quindi non può neanche credibilmente proporsi al Governo di partiti politici che in Consiglio regionale non hanno fiatato, non hanno battuto ciglio e hanno anzi forse strizzato l'occhiolino a questa soluzione o perché avevano qualche interesse o perché speravano di specularvi dal giorno dopo come hanno fatto sulla pelle dei cittadini e noi, lo ribadisco, siamo pronti a discutere nel merito quando il territorio rappresentato dal Comune di Roseto ci produrrà dei documenti su cui valga la pena di ragionare e che possiamo anche sottoporre al confronto delle categorie e dei portatori di interesse per capire se quel documento risponde alle esigenze del territorio e può rappresentare un salto di qualità e dare vita nuova alla riserva del Borsacchio oppure se dobbiamo rassegnarci al fatto che non c'è capacità da parte del territorio di valorizzare una bellezza così importante del proprio Comune e della propria terra.